Sam, do you hear me? Sam, you're safe now. Where do you think you are right now? In the lab, Bernie. Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Prova a non entrare nella sua testa. È stata ritrovata, ormai non c'è più bisogno di te. Ieri notte eri nella baluta. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamata ai soccorsi. La ragazza non era sola. Giusto? Il tuo nome è Samantha Andretti. Sam, tu eri scoperto 15 anni fa. In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Conigli. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. We have to know what you remember now. E devo arrivarci prima di lui. Perché? La storia non finisce così giusto. Perché è non l'interno, ma l'interno della tua mente. È la sua persona che andai la tua mente. Ah! No! 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 Grazie.